buonasera a tutti e a tutte d'andrea cartotto nuova puntata nella mia playlist rubrica qui sul canale classroom per tutti in cui vediamo come realizzare un compito con quiz il compito con quiz altro non è che lo strumento moduli di google portato all'interno dell'ambiente di restituzione classroom quindi alla domanda che talvolta nei miei corsi di formazione sulla dd ai colleghi mi viene posta ma devo usare per forza classroom per i moduli google la risposta è no qui sul mio canale c'è ad esempio un video corso circa la preparazione di un modulo google anche al di fuori di classroom però se seguiamo la linea della google suite for education e di classroom allora entriamo nel corso di nostro interesse in questo caso ho preso un mio corso di esempio dentro la classroom clicchiamo su lavori del corso e quindi clicchiamo su crea poi su compito con quiz per evitare di dover cliccare il più crea e attivare da lì il modulo in allegato vedete che abbiamo un blank quiz cioè un modulo google pronto vuoto da compilare indicando titolo domande così via anzitutto che cosa facciamo allora partiamo da sinistra in alto titolo di cosa si tratta verifica di letteratura immagino un contesto di italiano per la scuola secondaria di primo grado ma decliniamo questo come meglio crediamo le istruzioni che pur sono facoltative vengono visualizzate dai ragazzi accedenti a classroom e al loro corso quindi io posso andare ad indicare con questo quiz digitiamo per bene in maniera corretta andiamo a verificare le vostre competenze sulla poetica di leopardi e potrei ulteriormente dettagliare ad esempio indicando prestate bene attenzione a quanto spiegato due giorni fa ricordate quanto abbiamo esaminato a pagina 35 eccetera eccetera bene allora siamo nel corso giusto sì eccolo qui menzionato il quiz è per tutti gli studenti sì altrimenti cliccando sulla tendina potrei contrassegnare con la spunta solo quegli allievi destinatari del quiz i punti qual è l'aspettativa massima di punteggio per i compilatori allora rispetto ai punti 100 che io considero poi sempre da trasporre in valutazione un pochino più laboriosi l'idea è ragionare in questi termini o proponiamo più quiz da uno però capite bene che poi allora dobbiamo arrivare ad una sommatoria di 10 quiz da uno per arrivare appunto a 10 oppure immaginando che al posto dei punti questo di fatto possa essere un voto allora il 100 lo facciamo diventare 10 digitando a mano il senza voto è fattibilissimo nei casi in cui il quiz da proporre magari in asincrono cioè quando i ragazzi non li abbiamo in lezione diretta e ora quindi in questo caso il senza voto ci viene in aiuto come sola modalità di interazione da parte loro un sondaggio un quiz di verifica argomento cioè la etichetta che cosa è clic io clicco su crea argomento perché la verifica di letteratura va sotto la etichetta letteratura perché un altro quiz potrebbe andare sotto la etichetta epica oppure antologia ma a quel punto sempre di italiano si parla come disciplina trascuro al momento griglia e vi dico però ne parlo anche nell'altro mio video corso qui sulla playlist del controllo antiplagio che qui in pratica contrassegnando quel quadratino e solo cinque volte percorso nella versione gratuita della google suite for education google in sintesi prende controlla le parole chiave i testi presenti nei moduli in questo caso in documento google e non fa altro che incrociarli con l'enorme indice che lui possiede tutte le fonti presenti sul web per vedere se qualcuno abbia già scritto ok bene allora diamo anche la scadenza per cui lo propongo in asincrono e allora rispetto alla data odierna cioè rispetto al venerdì giorno in cui ho visto parlando immaginiamo di proporlo per la compilazione con data di scadenza sabato 28 entro le ore 15 se lo propongo durante una lezione sincrona è la verifica allora posso inserire ad esempio come scadenza il giorno stesso della lezione sincrona e come orario alla fine dell'ora ok bene nel momento in cui andiamo a modificarlo è similare per chi già ne ha dimestichezza la proposizione di un modulo google normale se io clicco su blank quiz infatti vedete che abbiamo la normale visualizzazione di un modulo google vi mostro solo che è possibile cliccare sull'ingranaggio in alto a destra e che qui cosa andiamo a fare bene allora intanto clic su raccogli indirizzi email cioè a prescindere tenete conto che tanto poiché siamo in classroom noi sapremo sempre chi è il compilatore perché gli alunni accedono con l'account della google suite dove dichiarano il cognome il nome non serve quindi prevedere righe campi nei quali gli si chieda proprio di scrivere nome cognome eccetera eccetera senza dubbio limitare la compilazione agli utenti del tale comprensivo è sicuramente utile cioè ancor meglio limitare a una risposta affinché non sia possibile dunque rispondere una seconda volta al medesimo quiz lascerei per ora inalterate le opzioni che vedete qui coperte dalla mia faccia che sono relative a ciò che possano visualizzare i ragazzi al termine della compilazione mentre un clic su quiz lo facciamo a prescindere la differenza rispetto al modulo google tradizionale che qui l'interruttore trasforma in un quiz è già attivo in automatico vedete che spostando la mia faccia vi mostro che chi risponde cosa può visualizzare ed ecco tre quadratini caselle di controllo che sono selezionata finché i ragazzi comunque vedano quelle voci cioè le risposte corrette eccetera eccetera decidiamo se fare sì che subito dopo ogni invio poi ci sia la pubblicazione del voto se attivare la modalità di revisione manuale però ricordiamoci soprattutto che queste sono impostazioni da modulo google tradizionale in classroom tanto assegniamo noi il punteggio quando andiamo a restituire il compito per cui io ora torno su informazioni generali confermo con un clic su salva risposto ancora la mia faccia mentre chiacchierò con voi e immagino un contesto composto da una sola domanda per cui clic su blank quiz cancello verifica di letteratura terza a la descrizione del modulo è una descrizione di sintesi la consegna predisponiamo una domanda tipo vi dicevo a scelta multipla allora vediamo un pochettino immaginiamo leopardi ecco una domanda potrebbe essere il componimento in cui il poeta fa riferimento al virgolette separiamo anche un pochettino a livello di formattazione creiamo un voto in più ermo colle e due punti opzione 1 clic a silvia opzione 2 clic l'infinito personalmente una delle poesie più belle che più mi è rimasta nel cuore a questo punto che si fa beh intanto si assegna l'obbligatorietà della risposta e poi volendo anche qui noi che cosa facciamo attiviamo la chiave di risposta un clic su chiave di risposta perché dobbiamo indicare quale sia la risposta corretta e risulta contrassegnata in verde vedete ora l'ho fatto chiaramente ma non è giusto con a silvia posso contemplare anche più di una risposta io in realtà lascio ora solo l'infinito e vado ad assegnare un punto l'idea qual è 10 domande da un punto se tutto è corretto restituiscono 10 punti il voto può essere dunque 10 i punti li posso immaginare come unità di voto alla stessa maniera quando poi andrò a restituire cioè a correggere e lo vedrò sempre nei lavori del corso i moduli che mi sono stati consegnati comunque dovrò indicare il voto cliccherò e dovrò digitarlo io quindi abbiamo un ricontrollo clicco su fine e in questa maniera siamo pronti cioè cliccando sul più a destra io potrei inserire altri blocchi e aggiungere liberamente domande risposte ovunque si trovi il pulsante con l'icona che ricorda delle piccole colline quello è l'inserimento di una immagine tanto nelle domande quanto nelle risposte e questo può essere utile nella scuola primaria, nella secondaria di primo e di secondo grado in taluni contesti o per discipline specifiche quali arte e immagine a questo punto lo scheletro è pronto e allora che faccio? chiudo con X la mia scheda di Chrome ebbene sì e vi dimostro che se riclicco su blank quiz è vero che appare quella dicitura ma trae in inganno perché la verifica non è più blank, non è più vuota ma è quella che io ho predisposto anzi dove c'è blank quiz qui in alto a sinistra io intervengo, clicco cancello gli dico nuovamente digitando verifica di letteratura trattino terza A nuovamente chiudo con una X la scheda di Chrome e comunque come vedete non è affatto detto che questa dicitura cambi non vi preoccupate importazione dei voti la lasciamo attiva perché è quello che poi ci servirà dunque titolo descrizione e consegna abbiamo soprattutto modificato il blank quiz specificato destinatari ricontrollato che il corso sia corretto i punti secondo nostra rubrica di valutazione la scadenza e l'argomento diciamo categoria della verifica siamo pronti a cliccare assegna oppure ancora noi potremmo preparare ora questo tipo di pubblicazione cliccando su programma ed allora in classroom la programmazione prevederebbe una pubblicazione lunedì, martedì eccetera eccetera ma noi facciamo conto di pubblicare assegnare ora quindi un clic su assegna e dopo qualche secondo vedete che all'interno della categoria letteratura abbiamo simbolo convenzionale di classroom la verifica di letteratura che scade domani alle 15 clic e qua la sto aprendo come insegnante naturalmente io vedo il numero di quelle che ho assegnato mentre saranno poi i ragazzi a aprire la loro verifica compilarla e a questo punto man mano che loro la svolgeranno i numeri allora in assegnato si porteranno quindi a 0 la numerazione andrà a 0 perché in realtà avrò la mia classe tutta su consegnati se vedete io clicco su 0 qua abbiamo già una idea vedete no consegnati non ce ne sono ancora quando in realtà avrò i consegnati io qui lo vedrò potrò cliccare sull'alunno o sugli alunni chiaramente destinatari del mio modulo qui potrò digitare il voto che intendo assegnare poi cliccherò su restituisci e la sequenza operativa del compito con quiz può intendersi quasi completa e dico quasi perché naturalmente c'è un sistema anche un automatismo che importa scelta multipla la sommatoria della correttezza delle risposte che i ragazzi abbiano assegnato e il tasto importa voti se cliccato quando naturalmente tutti avranno consegnato un clic su importa permette sostanzialmente di ritrovare il calcolo dei punteggi che io avevo scelto e che sono identificabili perché avete visto l'esempio di inizio videocorso l'idea è soprattutto agli inizi preparare una verifica composta da 10 domande ciascuna un punto il totale è 10 con importavoti in realtà io questa valutazione oggettiva già la ho posso comunque come avete visto digitare cioè valutare ecco cosa io voglia qui assegnare come punteggio e poi con un clic su restituisci completare questo processo ecco qualche minuto è stato necessario per capire la procedura operativa del compito con un quiz ma lascio a voi la prova pratica su strada vi do sindora appuntamento al prossimo videocorso e vi rivolgo un saluto quindi buon fine settimana da Andrea Cartotto e a presto ciao ciao